Tutto pronto per la nostra trasmissione, marcia di avvicinamento alla prossima trasferta del Palermo in a casa dell'Ascoli, vi ritrovate i gentili amici all'ascolto con speciale Gold Sport edizione del giovedì, quindi leggeremo tutti i vostri messaggi attraverso tantissime piattaforme perché siamo multitasking, Facebook, due pagine, poi YouTube, insomma tutto il meglio di quelle che sono le vostre disquisizioni calcistiche in chiave rosa nero avremo modo di leggerle live attraverso la nostra trasmissione. Un Palermo che è in netta crescita, sette risultati utili consecutivi, l'ultima vittoria molto importante conseguita tra le mura amiche del Barbera grazie alla zampata vincente del difensore Goliador Marconi è arrivato a tre sigilli in questa stagione, Marconi così come Valente perché no aggiungiamoci a questa lista anche Bro, dei giocatori che stanno meritando sul campo assolutamente la riconferma contrattuale, quindi vi dovremmo, si spera, rivedere in rosa nero anche per la prossima stagione. Per Marconi sembra veramente tutto già fatto, in chiave appunto rinnovo contrattuale, Valente praticamente pure da capire quello che deciderà di fare la società per il centrocampista Bro, ma oltre al discorso legato al rinnovo contrattuale dei giocatori che fanno parte della vecchia guardia del club di Viale del Fante, c'è anche da capire e da fare il punto inevitabilmente sulle trattative in entrata, dovrebbe finalmente, lo possiamo definire tale, essere il Verre e dei, vedremo perché tra poche ore il giocatore potrebbe arrivare a Palermo, ma ne parleremo nel corso della nostra diretta. Siamo arrivati a giovedì, quindi introduco Gabriella Di Carlo. Ciao Gabriella. Ciao Simone e a te soprattutto a tutti voi. Ebbene sì, lo diciamo sempre, il giovedì è il vostro momento social, quindi mi raccomando scatenatevi con i commenti, mercato e non solo, come potete farlo? Attraverso le nostre pagine Gold Sport 7 Gold Sicilia su Facebook, tifosipalermo.it e anche il canale YouTube di Tifosi Palermo, quindi mi raccomando scriveteci a rispondere, non sarà soltanto Simone oggi ma anche il nostro ospite amico, dico bene? Assolutamente sì, si tratta di una new entry per quel che riguarda la nostra trasmissione qui su Telerent 7 Gold Sicilia, ma ci verrà a trovare sicuramente perché la stagione è lunghissima, l'amico e collega di forzapalermo.it, Peppe Musso. Ciao Peppe, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Allora, oggi lo possiamo definire Verredei o ancora dobbiamo aspettare qualche ora? Insomma, il serato dovrebbe arrivare. Il nostro OSS diciamo che solitamente ci impone il condizionale, però dovrebbe davvero essere il Verredei, il calciatore dovrebbe stare svolgendo le visite mediche proprio adesso a Roma, quindi si presume che in serata sbarcherà in Sicilia e finalmente sarà un calciatore rosa-nero. L'abbiamo inseguito tanto, quasi tre settimane di trattativa, lunghissima per i tempi che ci sono adesso, però in teoria potrebbe anche essere a disposizione per la trasferta di Ascoli, quindi bene così, è un grandissimo colpo, lo possiamo dire, è un colpo che alza di tanto il tasso tecnico di questa squadra. Diciamo che Tutino prima verre dopo un mercato veramente importante da parte del City Football Group, considerando che si tratta di una finestra invernale di mercato, il Palermo è una di quelle squadre che dal punto di vista qualitativo, come diceva giustamente Peppe, sta innalzando notevolmente quello che è il livello della sua rosa e non è finita qui perché potrebbe anche arrivare un altro colpo sulla corsia a Mancina, si parla di Martella. Sì, è quasi certo che il Palermo interverrà in quella zona di campo perché attualmente c'è solo Marco Sala che si sta dimostrando molto valido ma sappiamo che è anche fragile, no? È stato spesso fuori per infortunio. si parla di Martella, della Ternana, ma a notizia dell'ultima ora si parla anche di Masciangelo, c'è questo ritorno di fiamma per Masciangelo del Benevento, insomma sicuramente qualcuno sulla sinistra arriverà perché non si può rimanere con un solo laterale Mancino per altre 17 partite, sarebbe un rischio. E come dicevi giustamente tu a tenere, diciamo, banco è la condizione fisica di Sala, sin qui veramente spremuto, no? Perché considerando le sue problematiche fisiche ha giocato, non ha praticamente mai saltato una partita, soprattutto da quando c'è stato questo cambio modulo dal 4-3-3 al 3-5-2. Eugenio Corini non piace mai, dice che sono soltanto delle nozioni meramente giornalistiche queste dei numeri, però fatto sta che la collocazione, diciamo così dal punto di vista tattico, sembra essere quella del 3-5-2 o del 5-3-2 quando si è in fase di non possesso. Leggiamo pure i messaggi, Gabriella, vai pure senza fermare. Esatto, c'è Domenico Romano che ci aura una buona serata e poi invece altri tifosi che ci scrivono anche via mail che intanto vogliono chiederti delle informazioni sulla infermeria e anche delle nozioni, Peppe magari su questo puoi rispondere tu, sul fatto se sia vero o meno che ci saranno meno tifosi rosa-nero in trasferta ad Ascoli. Questo secondo te potrebbe anche essere dovuto a causa delle condizioni meteo, perché anche noi ci siamo un po' informati in merito a quello che sarà il meteo ad Ascoli ed è prevista la neve, nevica già da un po', però proprio per sabato, ricordiamo la partita sabato 28 alle 14, sono previste veramente forti piogge e neve, quindi potrebbe magari anche questo aver scoraggiato i tifosi rosa-nero a seguire la squadra. Tu che ne pensi? È probabile, la notizia appunto è che attualmente sono circa 200 i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio marchigiano, tanto per coincere Ascoli non è la città più semplice da raggiungere logisticamente. Anche per l'aeroporto dicevi? Sì, perché non sono molto vicini gli aeroporti e poi sì, è da una settimana che sui telegiornali ci sono solo servizi sul maltempo nelle Marche, che sta nevicando tanto, quindi non mi sorprenderebbe, non mi sorprenderebbe, però comunque Palermo non è mai da solo, quindi quelli che ci saranno si faranno sentire. Assolutamente, si parla anche di poco meno di 200 biglietti venduti, erano 175 circa nelle scorse ore, quindi questo è anche vero. E poi ci chiedono informazioni sull'infermeria. Sì, c'è il report stilato dal sito ufficiale del club di Viale del Fante, lo andiamo a leggere, il report che fa riferimento proprio all'allenamento del 26 di gennaio, allenamento mattutino, oggi per il Palermo guidato da Eugenio Corini, che prosegue questa preparazione in vista del match di sabato prossimo in casa dell'Ascoli. I rosa nero hanno svolto un lavoro di attivazione Ettorello, poi un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e una partita a tema. Davide Bettella, il difensore, è stato sottoposto dai consulenti della società rosa nero, il professor Cimino e il professor Iovane, ad indagini strumentali che hanno evidenziato una distrazione al muscolo della gamba sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso di riabilitazione, palestra e terapia, invece per Luca Vido. Insomma, tirando le somme, senza perderci dietro tutti questi termini, Bettella e Vido non prenderanno parte della partita contro l'Ascoli. No, di Vido lo si poteva immaginare anche dalle parole di Corini della settimana scorsa in conferenza. Invece Bettella ha avuto un'altra ricaduta, perché pre-Bari, mister Corini aveva detto che aveva un problema, ma che sarebbe stato recuperabile abbastanza facilmente. Infatti è anche entrato negli ultimi minuti della partita per tenere il risultato. però non è la prima volta che a questo ragazzo capitano di questi infortuni, queste ricadute sui infortuni precedenti. È un problemino, perché attualmente il Palermo è un po' corto sui centrali, perché Buttaro se rientra, rientra adesso dopo quasi quattro mesi, tre mesi, e poi Oriuela ancora non sappiamo effettivamente se è pronto per il calcio italiano. Oriuela non si allena a minutaggio dal 26 di novembre, lo ha detto lui in conferenza stampa, quindi... E poi la domanda, come direbbe Lubrano, sorge spontanea. Come fai in questo momento a levare il posto a due centrali come Nedel Ciaru, ma soprattutto Marconi? Tutti ovviamente sottolineiamo la grande prestazione di Marconi, anche quest'audio detto Marconi, c'è stato il boato del pubblico, ma andiamo a vedere anche i movimenti, gli anticipi e anche la leadership di Nedel Ciaru, il difensore centrale roccioso del Palermo sta dimostrando il suo valore. Sì, io devo dire che sono calcisticamente innamorato di Nedel Ciaru, mi ha fatto una grandissima impressione fin da subito, alla fine dei conti Nedel Ciaru da quando è arrivato ha sbagliato una sola partita, che è proprio la partita di andata tra Palermo ed Ascoli, ma perché è stato schierato sul centro-sinistra insieme a Lancini, perché Palermo in quel momento era molto in emergenza, però poi effettivamente è il leader di questa retroguardia, è quello che non toglie mai la gamba, che si fa sentire quei centimetri, anche a volte andando a muso duro con gli avversari, non sarà il massimo della sportività, ma serve anche questo a volte per portare a casa le partite, quindi sono molto contento che sia arrivato, anche perché appunto in sede di mercato estivo non se ne parlava un gran bene, abbiamo preso un calciatore di una squadra che è retrocessa, però questo non vuol dire, lo sta dimostrando sul campo che Romero non ci sta e come in questa squadra. Assolutamente sì, e poi praticamente ha fatto tutte le gare tranne una che ha saltato per squalifica, quindi questo è anche giocato, non lo dimentichiamo, esattamente contro la Spal quando poche ore prima purtroppo era arrivata la brutta notizia della morte del papà, quindi questo i tifosi lo hanno apprezzato e non lo dimenticheranno mai, le del Charu, un uomo vero che veramente ha dato sin qui di tutto se stesso per la causa rosa nero. Altri messaggi? Abbiamo Simone in Borgia che ci scrive, buonasera, usiamo sempre il condizionale per quanto riguardano gli arrivi e allora invece di proclamare già da giorni l'arrivo di Verre annunciando quando metterà piede sul suolo palermitano. Allora diciamo Verre verrà, quindi possiamo uscircene così con la licenza poetica, ma Simone, hai un nome stupendo, non lo dico a caso, Simone è fatta, dai è fatta, è fatta. Era già fatta, io ho sentito tanti colleghi di Genova che ovviamente seguono la squadra blucerchiata, la trattativa è già chiusa da 15, 16, forse anche 18 giorni, semplicemente c'è stato quest'intoppo a livello numerico perché Stankovic non aveva la possibilità nelle sue rotazioni di poter attingere a un altro giocatore, una volta squalificato a Rincon, una volta una ricaduta muscolare per un altro suo giocatore nella zona evralgica del campo, Verre è chiusa la trattativa, tra parentesi l'enturagio del giocatore non ha mai fatto mistero della voglia, della volontà di Verre di ritornare a rivestire la maglia rosa-nero, quindi eravamo ai dettagli, dovevamo trovare quest'ultimo cavillo da risolvere. Non è improbabile che la Samp abbia chiesto anche semplicemente un po' di tempo in più, anche perché è notizia diciamo ormai abbastanza conclamata che la Sampdoria non se la passi proprio benissimo a livello societario in questo momento. Ho letto anche che molti vicini alla squadra hanno fatto uscire questa notizia degli stipendi che non arrivano da diverso tempo, usiamo sempre il condizionale, non abbiamo le prove. Anche su Verre è uscita questa cosa che avrebbe quindi delle pendenze in corso con la Sampdoria, è una situazione un po' delicata, non è mai facile trattare con squadre che si trovano in queste condizioni, lo abbiamo visto sulla nostra pelle fino a qualche annetto fa, erano sempre particolari i calciomercati del Palermo, quindi ci sta, però l'importante è che arrivi prima del 31. E poi concludo e ritorniamo ai messaggi, almeno una cosa positiva, non si tratta di un giocatore che è fuori condizione, che deve allenarsi, che deve avere minutaggio, deve acquisire minutaggio sulle gambe, ha praticamente giocato tante gare, soprattutto molte da subentrato, quindi è in condizione il giocatore, ha giocato in Coppa Italia, ha giocato le ultime due in campionato consecutive, quindi si tratta di un giocatore che qualora dovesse essere depositato tutto il contratto in Lega, potrebbe già essere, no, convocato e perché no, anche partire dal primo minuto, vista l'emergenza contro l'Ascoli. Certo, e poi tra l'altro moltissimi tifosi del Palermo, come anche noi magari addetti, abbiamo avuto un occhio di riguardo per la Samp in queste ultime giornate e abbiamo potuto vedere che Verre dice la sua anche nella massima serie. Sta pure segnando col Napoli. Sta facendo un gol incredibile nella scorsa partita, quindi stiamo parlando davvero di un giocatore che è pronto al 100% per scendere in campo e che farà la differenza. Non dimentichiamoci che lui, nell'ultima stagione che ha giocato nella serie cadetta col Perugia, giocando da centrocampista, ha fatto 12 gol e 6 assist. Speriamo... Mica male. Speriamo li possa rifare anche con la maglia del Palermo. Messaggi. Abbiamo Rosi Gaetano Vitanza che ci dicono buon lavoro e forza Palermo, sempre Rosi Gaetano. Mentre Simone ci scrive, per quanto riguarda gli infortuni, secondo me c'è qualcosa che non quadra nel team di fisioterapisti. No, 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 assolutamente no, tutti quelli che lavorano per il Palermo sono dei grandi professionisti e insomma, era una battuta, dai la prendiamo come battuta. Altri messaggi? Esatto. Andrea Terranova, salve mi sono collegato adesso, ci sono novità sul fronte arrivi? Verre verrà, abbiamo detto prima, un po' di pazienza caro amico. E sempre Daniele Minasola scrive, buonasera, oltre a vero arriveranno altri acquisti, buonasera Peppino, quindi penso sia per te. Sì, lui è uno dei nostri fan più accaniti su Forza Palermo. Vabbè, arriveranno degli altri acquisti, è molto probabile, è quasi sicuro che arriverà un esterno sinistro, poi secondo me bisognerà aspettare gli ultimissimi giorni di mercato perché il Palermo secondo me è stato molto bravo sul fronte cessioni, ma il lavoro non è finito perché ci sono ancora un paio di calciatori il cui futuro non è scritto, ecco, mi riferisco probabilmente a Edoardo Lancini e a Luca Vido, non si sa bene cosa ne sarà di loro, sono stati cercati da alcune squadre, secondo me se loro dovessero uscire negli ultimi giorni di mercato si può pensare a qualche altro innesto, altrimenti secondo me la squadra va già bene così. Sì, hai fatto bene a sottolineare questo aspetto perché noi parliamo ovviamente di Tutino, di Verre o di altri giocatori che potrebbero arrivare, vedi Martella, vedi Masciangelo, questo ritorno di fiamma, però il grande lavoro fatto in sede di mercato è soprattutto quello relativo al capitolo cessioni, c'erano tanti giocatori scontenti, l'abbiamo detto a più riprese anche nel corso della nostra trasmissione qui a Settegold, la difficoltà anche manifestata da Corini in conferenza stampa di poter allenare un numero così importante a livello numerico di giocatori e poi inevitabilmente un po' di malumore all'interno dello spogliatoio quando si è troppi, io non gioco, io vado in tribuna, io vado in panchina, voglio giocare, la sistemazione per molti di loro è stata anche fatta per questo. Sì, infatti complimenti a Leandro Rinaudo che ha fatto un lavoro eccezionale almeno in questa fase, quest'estate non c'era stato il tempo forse perché sappiamo cosa è stato successo a livello tecnico, c'è stato un cambio di allenatore, un cambio di DS, il Palermo doveva inserire tanti calciatori per essere a livello della Serie B e si è ritrovato con una serie di ragazzi che oggettivamente non avevano probabilmente le qualità per rimanerci in Serie B ed è ovvio che poi si sottovaluta a volte l'aspetto umano, quando tu hai una serie di ragazzi che non giocano, che comunque hanno stretto dei legami con gli altri, lo spogliatoio ne risente, il livello degli allenamenti magari si abbassa anche un po', quindi soluzione perfetta per tutti, loro vanno a giocare, il Palermo può alzare il livello della squadra e degli allenamenti, perfetto così insomma. Assolutamente sì, poi ci sarà anche da registrare, diciamo così, degli eventuali e successivi malumori perché adesso quando si innalza il livello qualitativo, soprattutto in alcuni settori del campo, penso all'attacco, arriva appunto Tutino, Tutino lo ha detto in conferenza stampa, avevo dei problemi dal punto di vista tattico, non mi piaceva la posizione che mi avevano disegnatono al Parma, ha fatto capire, non tra le righe ma proprio pragmaticamente, qui ha avuto delle garanzie, Tutino ovviamente sarà la spalla ideale dell'attacco del Palermo con Brunori, poi di Mariano dove lo piazzi, ma Valente continuerà a giocare, iniziano poi anche questi rebus di formazione che già i tifosi vorrebbero avere sciolti. Certo, però bisogna considerare una cosa, sul tema seconda punta secondo me è stato veramente una mano dal cielo prendere uno come Tutino, non perché di Mariano non sia adatto o a livello, però penso che sia più un giocatore di fascia, secondo me è anche questo il motivo per il quale il Palermo non sta trattando molti esterni destri, perché di Mariano potrebbe benissimo andare a fare la coppia con Valente e giocare a tutta fascia nel 3-5-2, è un giocatore di grandissima quantità, di grandissima quantità, di Mariano giocano un po' l'uno, il campionato è lungo, perché davanti serve un po' più di qualità, un po' più di sostanza in zona goal, di Mariano ha tante qualità. Quindi per te Di Mariano potrebbe anche giocare sulla fascia, tutta fascia? Sì, io vorrei vederlo lì, del resto... Però dal punto di vista difensivo non è come Valente. Magari non 90 minuti, però per esempio con il Bari, questa è stata la soluzione che ha adottato Corini negli ultimi 25-30 minuti e ha funzionato, perché il Palermo ha fatto gol attaccando da quella fascia, da un fallo conquistato da Di Mariano sul centro destro, poi l'azione si è sviluppata, ok, però secondo me questa è la soluzione migliore. Di Mariano sulla fascia e Tutino alla spalla di Di Mariano. La partita è stata vinta con un cambio, che è stato bro per Damiani, perché da lì è cambiato tutto, un terreno di gioco che era molto pesante a causa di quel nubifraggio, da lì praticamente il Palermo ha avuto più controllo in fase di interdizione ed è nato tutto, però effettivamente è dal centro-destra e poi un po' più di rottatina avanti che è nata l'azione del gol. Ci dobbiamo fermare, ci suggerisce la nostra regia, piccolissima pausa, piccolissimo stop and go, poi ritorniamo per la seconda parte di Speciale Gold Sport. Restate con noi. Cafè Cafè Cafè, che si che si, quando si amara ci dici sono io, mi appiccio la bocca che mi fai consumato, ma mi metto un genio e l'andano. Anni, è il nome del caffè? Ah già, Caffè Siag. Azz, è pure saborito. Panificio Guccione, premio Best Sicily come miglior fornaio. Pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente, cotto a legna con farina di tumminia macinata a pietra, pizza al taglio, biscotti, pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali. Panificio Guccione, fedeli alla tradizione. Sede unica Palermo, in via Pipitone Federico 61. Ben ritrovati, seconda parte della nostra trasmissione speciale Gold Sport. Continuate a fare 300 domande al secondo relative al calcio mercato. Non vi piace Martell, abbiamo capito, non vi piace Masciangelo, stiamo scherzando, ci fate un altro nome, vero Gabriella? Assolutamente, ci parlano di Balcovec. Esatto, ci chiedono Jure Balcovec, c'è questa esclusiva da parte di Alfredo Pedullà, uno dei più noti giornalisti sportivi che segue il calcio mercato, ci sarebbe questa esclusiva Palermo interessato non soltanto a Martella ma anche a Jure Balcovec, terzino sinistro sloveno, classe 94. Attualmente gioca all'Agnanspor in Turchia. Il Palermo avrebbe offerto 200 mila euro per il prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare poi obbligo in caso di promozione in Serie A, una delle formule che per ora va per la maggiore. Onestamente, vi dico la verità, ne prendo atto soltanto adesso, ma quando c'è il calciomercato, Peppe, ci sono 500 nomi ogni giorno che vengono accostati, visto che parliamo di Palermo, alla scuola Rosa Nera. Sì, diciamo che in questo caso anche per me è una novità, cioè l'avevo letto stamattina, mi sono informato un po' sul calciatore, ho scoperto che ha giocato tanti anni in Italia in realtà, sulle maglie di Bari, Verona. Sì, sì, no, io me lo ricordo, io me lo ricordo. Ecco, io per esempio no, quindi non mi esprimo in giudizi, però abbiamo visto che comunque... Io l'ho visto giocare qualche volta, se volete, dico anche tramite, è un terzino di spinta, ha una buona progressione, sa crossare discretamente bene, però sulla conoscenza del giocatore posso dire la mia, però sul fatto della trattativa, ti dico la verità, ne stavo seguendo altre, perché ce ne sono troppe da seguire. Sì, anche perché abbiamo capito che è quello il reparto in cui si interverrà maggiormente, è ovvio che in questa fase usciranno tanti nomi. Comunque, abbiamo avuto modo di vedere che quando il nuovo gruppo che gestisce il Palermo si muove fuori dall'Italia, difficilmente sbaglia. Quindi a questo punto io mi sento di dire, vediamo, se scelgono lui vuol dire che sarà valido, ecco. Arriva poi Luciano Buetto e dice, ex Bari, Verona e Dempoli, l'ha scritto a stampatello, io ti ho preceduto, me lo ricordo, l'ho visto giocare, no, lui scrive spesso in stampatello, sto scherzando, salutiamo Luciano Buetto e tutti gli amici che scrivono. A proposito di amici, continuiamo con il messaggio. Salvatore Bellomonte, salve, purtroppo ho sentito che Bettella non c'è, allora ci dobbiamo piangere Matteo al di là del cross vittoria contro il Bari? Ci fa pesante, Salvatore. Beh, rispondiamo su Matteo un attimo perché effettivamente non è uno dei giocatori più amati da parte dei tifosi, però posso fare in piccolo l'avvocato di Matteo, neanche a me fa impazzire. Però è un giocatore che si impegna, è un giocatore che appunto ha fatto questo cross da cui è nato il gol, la zampata vincente di Marconi. Ecco, andare a descriverlo come il nuovo Melinte mi sembra un po' eccessivo. Purtroppo quando un giocatore, pupillo di un allenatore, non ha mai fatto mistero Corini, capita che se non giochi benissimo sei soggetto forse a critiche extra. Sì, infatti stavo per dire questo, la colpa più grande di Matteo è essere pupillo di Corini perché alla fine mi sembra che sia stato criticato un po' oltre misura. È vero, ha fatto delle prestazioni non proprio esaltanti. Se il Palermo prima perdeva o pareggiava spesso, soprattutto perdeva, la colpa non era solo di Matteo. No, infatti. Io gli improvero in particolare la partita di Perugia perché abbiamo affrontato un avversario in grande crisi e soprattutto lui nella prima fase del primo tempo è stato un po' leggerino, a tratti disastroso. Però poi alla fine... Non è vero, è vero. No, no, mi hai fatto sorridere, ma sottoscrivo. Sì, diciamo, ha fatto qualche cappellata di troppo. Però a parte quello comunque era in ripresa. Nella nuova posizione da centrale di destra si sta, secondo me, disimpegnando abbastanza bene. Come hai detto tu, non è un fenomeno ma viene criticato più di quanto merita, ecco, secondo me. Ci sono tanti giocatori del Palermo che vengono, secondo me, criticati oltremodo. Matteo in primis, ma spesso... Non ci dimentichiamo che dopo Venezia anche Brunori era finito sul banco degli imputati. Sì, no, vabbè, criticare Brunori mi sembra. Però ancora qualcuno, forse in maniera più morbida e timida, ma ancora arrivano tante critiche nei confronti di Di Mariano, che secondo me sotto il profilo dell'impegno, del sacrificio, dello spirito di abnegazione è forse, non dico quello che si impegna di più, ma tra quelli che escono sempre con la camisetta rosa nero intrisa di sudore. No, ma io sono sicuro che se si andassero a guardare le statistiche di tutta la serie B, di chi corre di più, Di Mariano sarebbe 100% nella top 5. È uno dei calciatori che veramente più di tutti si impegna. Ripeto, secondo me, è la posizione da seconda punta che lo sfavorisce un po', perché gli vai a chiedere un lavoro che lui in carriera non ha mai fatto, cioè quello di essere incisivo negli ultimi 20 metri. Però, ecco, per questo io dico spostiamolo sulla destra. Ma cosa si aspettano i tifosi? Io me lo sono sempre chiesto perché arrivano queste critiche nei confronti di Mariano. Si aspettavano facesse tipo strafezze in serie B, 50 golle in una stagione. Andando a vedere i numeri, lui non è che è mai stato un goliador, non è che abbia mai fatto numeri impressionanti sotto il profilo realizzativo. Quindi, secondo me, ci sono alcuni giocatori. Il palermitano che gioca a Palermo pagano dazio, forse, eccessivamente. È una sorta che è stoccata a tutti i palermitani che sono passati qui. Però sì, sono assolutamente d'accordo. Forse c'erano troppe aspettative su di lui, però se poi uno va a guardare la sua carriera è in linea, ecco, in linea. A parte che comunque, dico, ha fatto un solo gol ma ha fatto già cinque assist che non sono pochi. Quindi poi bisogna anche andare a vedere le situazioni che lui crea. Per esempio, la punizione da cui abbiamo fatto gol col Bari se l'è conquistata lui. Quanti falli conquista durante una partita? Quante pressioni esercita sugli avversari? A volte non possiamo guardare soltanto il gol e gli assist, insomma. Bisogna guardare anche altro. Ed è un giocatore molto utile per questa squadra di Mariano. Assolutamente sì. Altri messaggi? Simone, sono veramente tanti, quindi fermami quando vuoi. Allora, c'è Andrea Lombardo che dice ciao Simone, vi seguo dalla TV e da Facebook. Se vuoi c'è pure YouTube. Grazie, sei troppo bravo. Poi ti suggerisci, io prenderei un centrale perché non mi fido per niente di Edelserau. Ti chiede anche come vedere le partite in diretta TV. Le partite in diretta TV ci sono le piattaforme e poi ovviamente durante le gare ci saranno anche i nostri collegamenti durante la programmazione nazionale. Poi se dovessero esserci degli sviluppi vi aggiorneremo. Voi continuate a monitorare la nostra pagina Facebook Gold Sport 7 Gold Sicilia perché ogni giorno il telegiornale, le trasmissioni, insomma abbiamo modo di aggiornarvi su tutto l'universo Palermo. Alessandro Calderone, ho una domanda per il vostro ospite Peppe Musso. Dopo quello che ha trovato Mr. Corini sappiamo tutti quello che è successo con Baldini. Non pensate che sta facendo un grande lavoro? Sta mettendo i tasselli giusti del calciomercato per salire in classifica. Cosa ne pensi tu? Grazie. Io penso che anche Mr. Corini è stato criticato un po' oltre misura. Forse anche da noi in alcuna fase della stagione non ci siamo resi conto di quanto fosse difficile adattare una squadra costruita a metà da un DS, a metà da un altro, a un campionato complicato come quello della Serie B. Però poi ha rimesso in gioco le sue idee, è passato al 3-5-2 e ha trovato una quadra. Adesso è molto difficile fare gol a questa squadra, escluso il Capitombolo di Perugia, e stiamo crescendo anche in fase realizzativa. Quindi secondo me Corini sta facendo un ottimo lavoro. Speriamo che con questi nuovi acquisti il Palermo possa crescere ancora di più e perché no? Magari il centrale è un piazzamento nei play-off, non tanto per ambire alla Serie A, ma per prepararci eventualmente a una prossima stagione da grandi protagonisti. Però dico una cosa, io non sono mai stato tenero nei confronti di Corini, non come uomo, persona squisita, capitano statosferico, forse il più grande capitano della storia del Palermo, però a me ancora dal punto di vista tattico non convince come allenatore. Però devo dare atto, devo dare a Corini, quel che è di Corini, no? Ad Eugenio, non a Cesare in questo caso, che ha rivisto alcune cose, ha cambiato anche l'assetto, il modulo di gioco, quindi comunque è stato bravo perché ha saputo rimediare facendo dei correttivi. Dal punto di vista tattico ancora ci sono delle cose da sistemare. Adesso se dovesse arrivare, usiamo sempre il condizionale Berre con Tutino, beh, ti ritrovi una signora squadra. Quindi non ci sono più alibi attenuanti per sbagliare. E poi, consentimi di dire una cosa, Peppe, ha avuto anche la fortuna a Corini di trovare una dirigenza che lavora in maniera british e non all'italiana. Perché quanti allenatori sono saltati per molto meno, facendo risultati anche migliori rispetto a quelli che aveva ottenuto Corini, no? Nel periodo più buio e più negativo della sua stagione. Sono saltate tante panchine. Lui invece è rimasto, e dobbiamo dare atto di questo alla dirigenza del City Football Group, che ha avuto la pazienza di farlo lavorare, di coccolarlo e di dargli la possibilità di lavorare serenamente. Ma in un'altra piazza Corini sarebbe saltato. È molto probabile, per non dire sicuro, che sarebbe saltato da un'altra parte. Non ci dimentichiamo che proprio Ascoli, nel giro di andata, è stato l'inizio di un periodo terrificante in cui il Palermo vinse solo una partita, mi pare, in sette incontri, quella contro il Genoa. E lì, soprattutto dopo la batosta subita contro la Ternana, Corini è stato messo in discussione da tutti, però complimenti alla società, mi viene da dire, per la pazienza. Come hai detto tu, adesso sono arrivati due calciatori che in teoria dovrebbero andare a colmare la vera lacuna di questa squadra durante il giro di andata, cioè la poca prolificità sottoporta, perché se non segna Brunori non segna nessuno. Adesso, ovviamente, gli alibi sono finiti. È vero che il Palermo, come obiettivo dichiarato, ha il consolidamento, però se ti portano Berro e Tutino, adesso devi dimostrare che nella parte sinistra della classifica ci puoi stare non per caso. Assolutamente sì, ore calde, ci scrivono i nostri amici, ora facciamo leggere altri messaggi. Ovviamente a Gabriella si parla di un masciangelo veramente in addirittura d'arrivo, insomma, abbiate un po' di pazienza. Io non vedo l'ora che arrivino le ore 20 del 30 di gennaio, perché la posso dire una cosa, anche antigiornalistica. Il calciomercato lo seguo, vi diamo ogni giorno le notizie tramite il TG o le nostre trasmissioni di Gold Sport, però è una cosa veramente pesante. Pesante, estenuante e si scrivono anche tante boiate, diciamolo apertamente, perché se tu spari mille nomi, poi sicuramente due arrivano. Non vedo l'ora che possa arrivare il più in fretta possibile questo benedetto 31 gennaio, le ore 20 del 31 gennaio, così pensiamo direttamente a come fare la formazione ci divertiamo. Sì, ma infatti il calciomercato è bello perché appassiona tutti, ci sono grandi numeri perché tutti i tifosi sono interessatissimi al calciomercato, però anche io preferisco la palla che rotola il calciomercato, quindi anche io non vedo l'ora che finisca. Vero è anche che non eravamo abituati a delle sessioni di calciomercato così intense da parecchi anni. Il Palermo si è mosso tantissimo in estate e si sta muovendo tantissimo anche a gennaio. Vogliamo dire una cosa forte, probabilmente il Palermo sul panorama intero nazionale è la squadra che si sta muovendo di più, è quella che sta facendo più colpi, considerata anche la Serie A. Tu considera che in Serie A momentaneamente hanno speso poco più di 9 milioni di euro, ancora non è chiuso il mercato, a differenza della Premier che credo abbiano, se non abbiano sforato, sono arrivati alla soia dei 300 milioni. Quindi per farti capire come è stato decisamente ridimensionato il calciomercato per via della crisi in Italia. Altri messaggi? Francesco Zoida ci dice, Balcovets sarebbe l'alternativa a Bettella e se sì, sulla fascia chi è più facile che arrivi secondo voi? Vuoi che vada avanti o vuoi rispondere adesso? A Bettella per me rimane un centrale che può giocare come braccetto, come centrale puro, ma no, sulla fascia sarebbe l'alternativa uno di questi nomi, Masciangelo, piuttosto che Martella, piuttosto che il difensore sloveno, un'alternativa a Sala, o perché no, i titolari e Sala diventerebbe l'alternativa, ma Bettella è un centrale. Poi c'è Anna Rita e Alessandro che dicono, Di Mariano è un giocatore che dà parecchio fastidio agli avversari. Daniele invece dice, i tifosi che criticano i giocatori del Palermo non sono tifosi veri, sono tutti occasionali e con le maglie della Juventus, Inter e Milan. Giuseppe Di Salvo, Di Mariano in ogni partita mette corse, impegni e tanto cuore, non si discute. Cristian ci chiede se Verre arriverà stasera? Sì, diciamolo, basta. Dai, Verre è qui, è arrivato. Considerando che molti vedranno la nostra replica in tv l'indomani, o vedranno la nostra diretta anche dopo, perché vi ringrazio anche di questo. In molti, magari siete al lavoro, tramite Facebook o tramite YouTube, rivedete poi la nostra trasmissione quando rientrate a casa dopo che avete finito di lavorare. Quindi vi ringraziamo anche per questo. Quindi se doveste vedere la nostra trasmissione l'indomani, Verre è già arrivato, diciamo così. Verre è arrivato. Che bello se non arriva adesso. Questo sarebbe. Verre è arrivato, con il beneficio del dubbio di inventario, che no, come volete. Vai fuori. Poi, Luciano Buetto. Ciao Simone, c'è l'accordo per il prestito con diritto di riscatto, operazione praticamente definita, Masciangelo al Palermo, ore calde. Luciano, non sapevo fossi anche il procuratore di Masciangelo. Luciano Buetto è un nostro affezionato telespettatore, utente internauta, insomma che segue le nostre dirette tramite il web, informatissimo su tutto. Quindi mi fido di lui se ha questa notizia, questa news. Salvatore Bertolino, ma non baste ne lo hanno già preso? Eh, magari. Un ciglio di Utrecht. Poi, se passiamo indenni, sempre Bartolo, queste prossime cinque partite penso che si possa arrivare nei primi cinque, sei posti. Secondo voi? Faccio rispondere a Peppe, poi dico la mia. Certo, se la premessa è quella che ha detto il commentatore, sì, ma non sarà facile uscire indenni da queste cinque partite, perché per la prima volta, forse, in stagione, il Palermo giocherà con tutte squadre che sono sopra dire. Indenne significa ho vittorio o pareggio. Certo. Quindi da sette andresti a dodici risultati utili consecutivi. Cioè, che è Real Madrid. Sono tanti, anche perché affronteremo Lascoli, che è solo due punti sotto, e poi la Regina, che è seconda, il Frosinone, che è primo, il Genoa, che è terzo barra secondo, e Zuttiol, che è un'altra squadra rognosissima da affrontare. Complimenti Mister Bisoli, perché io non me l'aspettavo per niente. Quindi, certo, se il Palermo dovesse uscire indenne da queste partite, nulla, è precluso, ma non sarà facile per niente. C'è invece Giampaolo che dice Ho letto su tutto mercato web che Martella forse non arriva più. Avete notizie? Martella è uno di quei giocatori che il Palermo sta trattando. Forse in queste ultime ore c'è questo rush finale della società per aggiudicarsi Masciangelo. Però dico che un nome vale l'altro. Bisogna capire anche quelle che sono le condizioni per chiudere una trattativa e le opportunità che il mercato pone in essere. Perché nel giro di un minuto col calciomercato può cambiare tutto. Uno scenario che sembra scontato può diventare paradossale, può diventare impossibile da raggiungere. Sempre Giampaolo dice spero che Tutino giochi titolare e con Lascoli siamo ancora con solo Sala a sinistra. È vergognoso. Salvatore, buonasera da Torino. Scusami, giriamo questa considerazione a Peppe. Tutino titolare è già contro Lascoli? Me lo aspetto, se ti posso dire la verità. Me lo aspetto. Mi dispiacerebbe vedere Di Mariano scalzare Valente con Tutino titolare. Però Corini ha parlato benissimo in conferenza stampa. Lo ha messo in campo subito, praticamente col Bari. Gli ha regalato un buon minutaggio. Il ragazzo aveva giocato già 17 volte col Parna, quindi fisicamente c'è. Io me lo aspetto titolare, sì. Ok, perché Tutino è stato preso per fare il titolare. Ci sono pure le varie clause, le varie opzioni, eccetera. In caso di promozione del Palermo in A, il Palermo poi avrebbe l'obbligo di riscatto e sono tre milioncini che dovrebbe poi andare a posizionare vicino o dentro le casse del Parna. Possiamo anche dire che se il Palermo miracolosamente dovesse centrare la promozione quest'anno, non può non farlo con un apporto di Tutino, quindi sarebbero forse soldi ben spesi. No, ma assolutamente. Un anno e mezzo fa oltre 5 milioni da Parma pagò Tutino, quindi a 26 anni è nel pieno del suo percorso di crescita dal punto di vista calcistico e della sua maturazione, quindi 3 milioni per un giocatore del genere, soprattutto se fa numeri, sono ben spesi. Poi c'è Salvatore che dice Buonasera da Torino, giudico la campagna acquisti del Palermo tra luglio e gennaio veramente buona, credo che sia un'eccellente base per il salto nel prossimo campionato. Assolutamente sì, avevo letto questo messaggio a Fredo Pedulla, continuo a parlare della trattativa relativa alla fascia sinistra, Martella resta a termine, quindi dovrebbe essere esclusa la pista. In realtà, se posso dirlo, anche a noi in redazione stamattina erano arrivate un po' di smentite su Martella, cioè che non era così fatta come si credeva, però, come hai detto tu, diciamo nel senso buono del termine, uno vale l'altro, alla fine stiamo parlando di onestissimi esterni di serie B, secondo me chiunque arriva sarà la riserva di Sala, perché io specialmente contro il Bari ho visto un Marco Sala molto in palla, sia a livello qualitativo ma anche a livello di corsa. Soprattutto all'inizio, all'inizio nessuno potrà levare il posto ad un giocatore che è entrato a pieno regime nei meccanismi del gioco che vuole Corini. Sì, e secondo me tra l'altro ti dico che Martella è un nome che è uscito perché Corini lo ha allenato a Brescia, in questa sessione di mercato sono usciti tantissimi nomi di ex, di calciatori allenati da Corini, quindi non vorrei che forse si è cavalcato un po' questa onda. Assolutamente. Vado avanti con i messaggi? Sì, sì, vai avanti. Simone, sono d'accordo con te Simone, neanche a me Corini fa impazzire, sottolineiamolo come allenatore, Simone dice sempre. Sì, ci mancherebbe. Andrea Lombardo, ma a nessuno piace Corini, ma ormai dobbiamo farcelo piacere. Mario Saladino... No, ma sia chiaro, eh. A me piace Corini. C'è a chi piace anche dal punto di vista tattico Corini, come per esempio a Peppe. Non è che il Palermo deve prendere gli allenatori che piacciono solo a Simone Alibani. Poi se Corini porterà il Palermo in Serie A, il Palermo in Champions League, io sono il primo ad esultare, no? Perché finito il mio ruolo da addetto ai lavori, sono un essere umano, ovviamente gioisco se i colori rosa-nero vengono portati in alto. Però posso dire, la mia, anche supportato dei numeri, soprattutto nel precedente periodo di questi sette risultati utili consecutivi, non c'era una cosa che andava bene dal punto di vista tattico, dal punto di vista delle scelte. Ora Corini finalmente ha capito che ci sono cinque cambi disponibili in una partita da cui poter attingere, panchina da cui poter attingere. Vedi il cambio, bro, per Damiani. Quante partite il Palermo non ha portato a casa perché Corini ha fatto delle sostituzioni interdive. Io mi ricordo una volta Valente è entrato gli ultimi quattro minuti, per esempio. Adesso le cose vanno bene e quindi bisogna giustamente elogiare questo miglioramento della squadra anche grazie alle indicazioni di Corini. Però se le cose vanno male devono essere fatte notate. I complimenti sono leciti se sono meritati, le critiche costruttive sono altrettanto lecite se sono meritate. Poi c'è Mario Saladino che dice io l'avrei, il giocatore che in attacco può aiutare Brunori, ed è Marconi. Alessandro Calderone, non so se avete visto Andrea Zoli e la Ternana in quattro partite, tre sconfitte, un pareggio e una vittoria. Tutti a criticare Corini che ha fatto sette risultati utili consecutivi. Anche i fiorfiori di allenatori possono steccare la stagione e possono sbagliare le partite. Ma Mario Sorce, Verre gioca sabato? Questo è più complicato. Però se arriva, secondo me, venti minuti se li fa. Secondo me lo butta in campo in qualche modo. Se posso tornare un attimo sul discorso allenatore? Puoi tornare su tutti i discorsi che vuoi. È una domanda che ci siamo fatti tante volte con i colleghi. La giro anche a voi, magari. Soprattutto prima di gennaio. Con un altro allenatore, il Palermo avrebbe avuto più punti di quelli che ha maturato? E se sì, quanti? È difficile. Però, se poi si va a guardare le partite che il Palermo non ha centrato, non so se con un altro allenatore sarebbe riuscito a centrare. Perché comunque questa squadra, soprattutto fin quando non è rientrato Sala, aveva delle lacune incredibili sulle fasce. Perché è venuto a mancare Elia. Sulla destra, come terzino destro, oggettivamente non c'era nessuno che ci potesse giocare. Perché Matteo non si è dimostrato all'altezza. Quando siamo passati a tre, con Valente la musica è cambiata. Ma fin quando non abbiamo risolto il problema degli esterni, era veramente complicato fare il gioco. È una domanda complicata, ma anche una domanda alla quale è impossibile rispondere per una duplice motivazione. La prima, non si è verificato questo scenario del cambio in panchina. e secondariamente sì, è vero, le colpe quando una squadra gioca male deve essere tutto contestualizzato, c'era emergenza in diversi settori del campo e tutto. Però ripeto, non abbiamo gli elementi per poterlo dire perché io ti potrei fare a questo punto una controdomanda. Ossia, quanto è stato bravo Corini, o meglio, quanti sono, più che di Corini, quanti sono i meriti del City Football Group e quanti sono in realtà i meriti di Corini, di questo rendimento che ha portato la squadra rosa-nero a sette risultati utili consecutivi. Nel senso, spiego meglio quello che volevo dire, così non ci sono interpretazioni. In un'altra piazza, Corini sarebbe rimasto? Probabilmente no. Non ho altro da aggiungere vostro onore. Cioè, nel senso, quante panchine sono saltate in Serie B? B per molto meno. Sì, per esempio, proprio le sue ore di Ternana, Genua. Di Lucarelli alla Ternana per me è stato più questioni di pressione ambientale. Frizioni tra l'allenatore e la dirigenza della Ternana che erano un po' ai ferri corti da diverso tempo. Però dico, non soltanto Lucarelli, quante panchine sono saltate? Parecchie. Parecchie e anche con risultati migliori rispetto a quelli che aveva conseguito fino a quel momento Corini. Cioè, non scordiamoci anche le figuracce che il Palermo ha fatto in alcune partite. Penso a quella del Granillo con la Regina. Penso ai 0-3 in porta appunto a Terni contro la Ternana, eccetera, eccetera. Partite che si dovevano vincere tipo col Sud Tirol. E quante vittorie il Palermo ha fatto anche con estrema fortuna? Per esempio, quella col Parma. Il Parma aveva 14 assenze. È difficile da contestualizzare, ma la tua domanda è molto... Il nostro mestiere è bello per questo, perché potremmo stare qui tre giorni a parlare di questo senza effettivamente trovare una risposta. La cosa importante però che Corini o non Corini è che il Palermo si sia ripreso in classifica, perché, come diceva il grande Delio Rossi, gli allenatori, i presidenti, i dirigenti vanno e vengono, quello che resta sono i colori rosa-nero, quindi poco importa su chi siano poi gli interpreti. Addio avanti con i messaggi, Rocco Cusimano, dai che le vinciamo tutte e cinque, Miami vi saluta, Luciano Buetto, Martella resta a Terni, Fonte Alfredo Pedullà, Simone Alibani, Masciangelo sì, Martella no, Balcovets no, ci siamo Simone, ore calde che adesso sono diventate fresche. Assolutamente. E poi fai questo, perché ne stai leggendo tanti messaggi, ci salutano da Padova, Paolo Magon, Forza Palermo, i fratelli Padovani, il gemellaggio storico che continuerà a essere eterno tra Palermo e Padova, quindi salutiamo Paolo e tutti gli amici che ovviamente ci seguono da Padova. E' una delle squadre più sfortunate degli ultimi anni. Sì, incredibile. Due finali perse, due finali perse di cui una è in rigori. Sì. Di cui una è in rigori. Quindi auguriamo al Padova di arrivare e di andare prestissimo in Serie B. Sì, anche perché è una piazza che merda un po' più di... Poi c'è invece Andrea Maggio che scrive non scherziamo, Corini non è uno spruveduto, sa il fatto suo e vorrei vedere quanti punti avrebbero fatto altri allenatori con una squadra fatta in fretta e furia. Quindi, Procorini come abbiamo visto. Leggiamo gli ultimi due messaggi perché siamo agli ultimi secondi di trasmissione. Ok, allora vado velocissima. C'è una cosa, uno da Gold Sport, la nostra pagina, uno da Tifosi e uno da YouTube. Ok, cominciamo allora con Tifosi. Daniele, in estate c'era questo algoritmo per scegliere un arrelatore. Facevamo una squadra buona con i giocatori della Serie B, con Castagnini invece prendeva i giocatori di Lega Pro. Va bene. Vado adesso con... Comunque sono andati tutti quelli presi da Castagnini. Sì, è vero, tutti. Non ce n'è più nessuno, quindi non ci sono più alibi. Nuovo Palermo, targato Corini a tutti gli effetti. Mario Saladino, io le colpe le do sempre a Corini perché non è capace di mettere i giocatori in campo. I giocatori ci sono sempre stati, quindi vediamo sempre pareri discordanti. L'ultimo da YouTube. Gianpaolo, Gomesci ha recuperato? Gomesci ha recuperato? Non ancora. Non ancora. Ci vorranno ancora due o tre settimane circa. Non è un infortunio grave, ma è pur sempre una frattura di diverse dita. Ho sentito dire, e chiudiamo il regio, ho sentito dire ma come un infortunio nella mano non può giocare a calcio se si gioca con i piedi. Sì, un contrasto, una caduta a terra, una pallonata, deve rischiare di peggiorare la situazione. Ancora forse un paio di partite lo dovremmo vedere, si spera a pieno. Ma poi con un regio così possiamo farne a meno per due o tre partite, no? E poi è arrivato Verre, già Verre è qui, è qui, non lo possiamo inquadrare. Andiamo a prenderci poi un bel caffè con Verre. Grazie mille a Gabriella Di Carlo, ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie a te Simone e soprattutto a tutti voi per averci iscritto in così tanti. Grazie mille al nostro amico e collega di forzapalermo.it, quindi salutiamo tutti gli amici, Manuel Mannino, il direttore eccetera, Peppe Muso. Grazie dell'invito ancora e un saluto a tutti quelli che ci hanno guardato. Ci rivedremo presto con te Peppe, grazie mille a Roberto Lombardo e Giancarlo Sardo che hanno curato la parte tecnica di Speciale Gold Sport, ma soprattutto grazie a voi, siete stati come sempre in tantissimi. Per quel che riguarda Speciale Gold Sport, ci vediamo lunedì con la linea diretta. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.